Musica Benvenuti al TG2000, buonasera, la settimana si apre con un'altra giornata molto difficile, il contagio per ora non frena, ma stando ai dati della protezione civile il numero dei contagi sarebbe in ribasso. Allora il quadro generale nel servizio di Silvio Vitelli. Il numero dei nuovi casi positivi è di 2470, è un numero a ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia autonoma di Trento. 414 guariti rispetto a ieri, 349 i nuovi decessi, dati parziali ma che aprono ad una piccolissima speranza sul fatto che l'inversione di tendenza dei contagi possa arrivare presto. L'Italia sfortunatamente in questo momento ha il numero maggiore di soggetti colpiti da Covid-19, ma anche tutti gli strumenti per rappresentare un punto di riferimento nella comunità scientifica internazionale e per svolgere addirittura un ruolo pionieristico. E a proposito di efficienza, alla Fiera di Milano dal momento in cui saranno disponibili i materiali in dieci giorni saremo operativi, lo ha detto il presidente della Fondazione Fiera parlando dell'ospedale provvisorio che dovrebbe essere allestito dalla regione Lombardia. Isolata alla Sicilia, nella notte è arrivato il decreto della Ministra dei Trasporti che impone la sospensione dei collegamenti e del trasporto di persone da e per l'isola, escluse dal provvedimento le merci. Qui siamo invece a Polla, uno dei quattro comuni del Salernitano, dove è stata disposta la quarantena. I controlli avvengono all'uscita dell'autostrada. Stiamo facendo rispettare la direttiva del presidente De Luca. Perché sta succedendo anche questo? I governatori decidono restrizioni maggiori in alcune aree delle loro regioni, come in Emilia Romagna, altra zona rossa, infatti quella di Medicina, in provincia di Bologna, dove si è registrata una crescita anomala dei contagi. Il divieto di allontanamento dal territorio del capoluogo di Medicina e dalla frazione di Canzanigo. Infine le borse, ancora una volta picco. Milano lascia sul terreno oltre il 6%. Ancora peggio va oltreoceano, dove il Dow Jones viaggia con un ribasso che sfiora i 10 punti percentuali. La Banca Centrale Europea prova a raffreddare la fiammata dello spread attraverso ingenti acquisti di titoli di Stato italiani. Un aiuto che, di certo, non potrà durare troppo a lungo. Arriva il decreto Cura Italia, misure eccezionali per sostenere economicamente il Paese durante l'emergenza. Stanziati 25 miliardi di euro per un pacchetto di provvedimenti a favore di privati e imprese. Augusto Cantelmi. Cura Italia, un intervento da 25 miliardi via libera del Governo al decreto economico. Questa è una manovra economica poderosa. Noi stiamo cercando di costruire, pienamente partecipi, gli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo, una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Alla sanità vanno circa 3 miliardi e mezzo. Prevista la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per 18 mesi, per tutti i lavoratori in difficoltà, bloccate le procedure di licenziamento. Prevista la cassa integrazione fino a nove settimane. Per i lavoratori del settore privato, la quarantena viene equiparata alla malattia. Inoltre, per partite IVA e autonomi, indennità di 600 euro. A marzo viene concesso un premio da 100 euro a chi lavora in sede. Il pacchetto di misura a sostegno dei genitori di circa un miliardo prevede l'estensione del congetto parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione o in alternativa ai voucher babysitter da 600 euro. Per le aziende è previsto l'ampliamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, incentivi per la produzione di mascherine. Sul fronte fiscale, sospensione dei pagamenti per una settimana per tutti i contribuenti, mentre per i settori più colpiti sarà garantita la sospensione fino al 31 maggio. La laurea in medicina, invece, diventa subito abilitante. Per il ministro dell'Università Manfredi saranno così pronti subito circa 10.000 medici per il sistema sanitario nazionale. Questa è una crisi sanitaria che segnerà la nostra epoca, ha detto poco fa il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tante limitazioni in Europa. Macron chiude da domani alle 12 le frontiere di ingresso dell'Unione Europea per la Francia e a New York chiude al pubblico la statua della libertà, simbolo dell'America. Ce ne parla Massimiliano Niccoli. Macron in diretta di bus si rivolge alla Francia e annuncia lo stop a qualsiasi spostamento non causato da ragioni essenziali. Parigi sceglie il modello italiano e come la Spagna, che oggi ha deciso di sospendere Schengen, effettua un deciso giro di vite per limitare la diffusione di Covid-19. Sulla stessa linea la Gran Bretagna, che cambia idea sull'atteggiamento morbido adottato fin qui e aumenta le restrizioni per favorire il distanziamento sociale. Lo ha annunciato oggi il Premier Boris Johnson durante una conferenza stampa, indicando una svolta rispetto alla sua linea e raccomandando lo stop di tutti i viaggi non necessari, il lavoro da casa per chiunque possa, e la rinuncia a contatti sociali pubblici, ad esempio nei pub. Chiuse le scuole a New York e con esse anche bar, ristoranti, cinema, teatri e locali, vuote le metropolitane, provvedimenti simili per Los Angeles e Las Vegas, coprifuoco per le spiagge di Miami e per New Jersey. Si adegua Mosca, che dal canto suo avvia una maxi-disinfestazione, chiude le frontiere e da oggi anche le scuole, fino al 12 aprile, mentre l'Iran conta i morti più di 130 solo nelle ultime ore, con Teheran particolarmente flagellata. Si apre infine una nuova ferita, quella africana. Il virus ha colpito ormai 29 paesi nel continente. E all'estero ci sono molti italiani che vivono con preoccupazione la situazione dei loro familiari in Italia. Massimiliano Copchi ha raccolto alcune testimonianze. Sentiamo. I cartelli stradali dicono io resto a casa, ma se la parola d'ordine è la stessa dappertutto, la Spagna da ieri notte ha mandato i soldati per strada. 9.407 contagiati, 335 morti e 1.000 nuovi casi rispetto a ieri sono i numeri che hanno costretto il governo a prendere misure drastiche, impensabili, fino a qualche giorno fa. Ancora una settimana fa Madrid si è svolta la grande manifestazione per l'8 marzo con oltre 120.000 persone. Poi, 48 ore dopo, c'è stato un giro di 180 gradi e si è iniziato con la chiusura delle scuole per poi arrivare sabato scorso al decreto di dichiarazione dello stato di allerta con la restrizione dei movimenti. E ci si prepara per una quarantena più lunga dei 15 giorni previsti dal decreto, come già annunciato questa mattina il ministro dei Trasporti. Anche nel Regno Unito sono cresciuti i contagi ed aumentata la paura dopo che il Guardian ha pubblicato un rapporto riservato del governo secondo il quale l'epidemia potrebbe durare fino alla primavera del prossimo anno, contagiare l'80% della popolazione e costringere in ospedale quasi 8 milioni di persone. Il premier Johnson ha dato alcune direttive per limitare la diffusione del contagio del virus. I luoghi pubblici sono ancora tutti aperti, infatti sta frequentando tuttora l'università e gli inglesi stessi sono convinti che il virus sia una normalissima febbre e che possa colpire soltanto le persone anziane, ignorando totalmente la situazione attuale italiana. In serata invece il presidente Macron parlerà ai francesi annunciando probabilmente nuove misure restrittive. Ieri avevamo una giornata primaverile, tutti erano fuori nei bar, nei terrazzi, nei parchi, giardini, a giocare, a scherzare. Oggi Parigi è vuota e silenziosa, niente panico per adesso, però la gente è molto disarmata, sconcertata. Un altro capitolo importante è quello delle regole da seguire per tenere il virus fuori dalla porta di casa. Luca Licata. Lavarsi spesso le mani, lo si è detto più volte, è una delle precauzioni principali per proteggersi dal coronavirus. Questo però vale anche quando si è dentro casa, anzi è la prima cosa da fare, insieme ad altre poche regole da seguire in questi giorni nelle proprie abitazioni. Tra i consigli, quello di aprire spesso le finestre per far arieggiare e non lasciare in giro giacche e soprabiti. Quando stiamo rientrando in casa, leviamo le scarpe, le mettiamo vicino alla porta, non c'è bisogno di sterilizzarle, di pulirle e così via. Leviamoci il cappotto, magari l'appendiamo sull'appendiabito. Ognuno di noi deve avere le proprie posate, il proprio bicchiere, il proprio tovagliolo, i propri asciugamani. Agli anziani invece il consiglio principale rimane quello di non uscire dalla propria abitazione, con alcune accortezze da prendere per chi riceve spesa o farmaci a casa. Allora, alla persona anziana la raccomandazione principe è non uscite di casa. Si apre la porta per ricevere appunto o la spesa o i farmaci, può, anche non avendo le mascherine che sono difficilissime da trovare, mettere un foulard davanti alla bocca. A dare consigli in questi giorni anche il mondo del calcio, attraverso 11 regole. Dopo Mancini, oggi Ciro Immobile. Gioca solamente in casa, segui le regole del gioco e condividila. Ciascun protagonista della campagna della Federcalcio realizzerà una storia e un breve video in cui racconterà la propria regola e inviterà il pubblico a condividere il messaggio. Parliamo di cure possibili, riflettori puntati su un farmaco, il Toligizumab, che sembra aver dato ottimi risultati nei pazienti ricoverati. Tanto che oggi l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ne ha approvato il protocollo della sperimentazione scientifica. Napoli e Modena saranno i capofila. Ma in queste settimane molte aziende stanno lavorando alla cremente, alla messa a punto di un vaccino. Ce ne parla Monica Di Loreto. Una corsa contro il tempo. Scienziati e ricercatori sono all'opera per trovare cure e vaccini per sconfiggere il coronavirus. Già subito dopo la scoperta della sequenza virale in Cina, nel settore farmaceutico si è cominciato a lavorare per trovare armi contro questo virus. E le possibilità che presto si possa avere intanto un farmaco non sono così lontane. Di vaccini allo studio ce ne sono diversi. Molti ricercatori stanno utilizzando gli studi già effettuati per trovare un vaccino contro la SARS del 2002. I loro risultati potranno permettere di abbreviare i tempi necessari per arrivare a definire presto un vaccino efficace per curare i pazienti contagiati dal coronavirus. Oltre agli italiani, ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, i vaccini li stanno sperimentando sia gli israeliani, sia i cinesi e gli americani. Alcuni usano piattaforme già utilizzate per altre malattie infettive. Poi ci sono anche grandi aziende farmaceutiche che ne stanno sperimentando altri tipi. Secondo Rezza, il vaccino arriverà relativamente presto, forse nel giro di un anno. Sempre Rezza ha spiegato che per il vaccino è necessaria prima la sperimentazione in vitro, poi si passa a quell'animale. Le fasi di sperimentazione umana sono tre. Bisogna vedere quanto andranno abbreviate in questo caso, perché quando c'è un'epidemia in corso, le agenzie regolatorie accelerano un po' il protocollo, soppesando i vantaggi e gli svantaggi. Per un vaccino in genere servono molti anni. In questo caso, ha spiegato sempre Rezza, potremmo averlo entro uno o tre anni. Per alcuni farmaci potremmo stare nell'ordine dei mesi. Se si tratta di prodotti già registrati e utilizzati magari per altre patologie, potrebbero essere a risposta abbastanza rapida, come nel caso del farmaco usato per curare l'artrite reumatoide. Un aggiornamento, anzi una precisazione a proposito del farmaco di cui parlavamo prima, il toligizumab. L'AIFA non ha ancora dato il via libera ad una sperimentazione, ma sta valutando di iniziare una sperimentazione. Torniamo ora ad alcuni momenti di ieri pomeriggio, quando Papa Francesco ha deciso di far visita alla Chiesa di San Marcello al Corso. Una visita particolarmente significativa in questo momento, come ci spiega proprio il Rettore di San Marcello al Corso, intervistato da Francesco Durante. Ieri mattina abbiamo ricevuto una telefonata all'improvviso in cui ci veniva comunicato che nel pomeriggio sarebbe venuto da noi il Santo Padre qui a San Marcello. Lo abbiamo accolto con grande gioia, si è messo sulla sedia a pregare in silenzio, con grande partecipazione, con grande raccoglimento. La Chiesa di San Marcello al Corso, dove è situato il venerato crocifisso in legno risalente al XV secolo, è metà continua di fedeli per tutto l'anno, ma nei giorni immediatamente precedenti alla disposizione di mantenere chiuse al pubblico le chiese non parrocchiali, come appunto San Marcello, l'afflusso era diminuito, spiega Padre Enrico, a causa delle precauzioni raccomandate. Però prima che ci avessimo proprio questo allarme imminente del coronavirus, c'era stato un aumento di devozione al crocifisso, perché devo dire i romani questo lo sentono molto. Nel 1522 fu portato in processione per le vie della capitale flagellata dalla peste e in questi giorni, segnati dall'emergenza al coronavirus, la comunità religiosa di San Marcello ha intrapreso una nuova iniziativa per tutti i devoti. Abbiamo pensato di mettere sul retro dell'immagine, che comunque è possibile diffondere per WhatsApp, per esempio, abbiamo inviato. Al retro dell'immagine che abbiamo stampata per quelli che venivano, abbiamo messo la preghiera di Bruno Forte proprio per la vittoria sul coronavirus. Quindi una preghiera molto bella che abbiamo utilizzato in questo contesto. Tanti troppi sacerdoti uccisi da Covid-19 in una diocesi, quella di Bergamo, che sta pagando un tributo di vittima altissimo alla pandemia in atto. Lo rivela il vescovo Francesco Beschi, il servizio di Nicola Ferrante. Una sepoltura ogni mezz'ora e senza funerale. A Bergamo l'emergenza coronavirus cresce con numeri mai visti, mentre il Comune avvia una massiccia pulizia delle strade e anche la diocesi attraversa un momento di grande prova con molti sacerdoti che risultano malati. Poi ci sono quelli gravi che vengono ricoverati negli ospedali. In questo momento sono una dozzina di cui quattro di loro molto gravi. E la settimana scorsa appunto i presbiteri che sono morti sono sei e stanotte ne è morto un altro. Io per ora sto bene. Sì, mi sembra che non ci siano sintomi particolari, però il numero dei malati è piuttosto elevato. Funerali vietati, i parenti devono restare in casa per rispettare la quarantena, solo una benedizione veloce della Salma, eppure non c'è spazio per lo scoraggiamento. Io sto vedendo, mi dicevano anche ieri sera, che le parrocchie manifestano una capacità di vicinanza, oserei dire una fantasia della carità e della vicinanza, veramente impressionante, anche perché i tempi non saranno brevi. La guerra in Siria entra nel suo decimo anno e la situazione resta drammatica per la popolazione. Marco Burini. Per resistere e non impazzire durante una catastrofe, i bambini hanno risorse che nemmeno ci immaginiamo. Ma cosa succede quando la guerra è l'unica cosa che hai visto da quando sei nato, anzi da quando eri nella pancia di tua madre? Ieri la guerra in Siria ha compiuto nove anni e in questo periodo sono nati 5 milioni di bambini, più di 9.000 quelli uccisi o feriti, 5.000 reclutati in battaglia, bombardate mille tra scuole e ospedali. Uno scempio senza fine, racconta l'Unicef, che chiede alle parti in conflitto di non colpire i più deboli. Ieri nella zona di Idlib, i russi e i turchi dovevano cominciare la loro prima pattuglia congiunta dopo la tregua, ma la gente ha fatto resistenza, arrampicandosi sui carri armati. Mentre oggi i ribelli al regime di Assad, sostenuti della Turchia, hanno ripreso le incursioni, denunciano i russi. E così questo calvario, come l'ha definito il nunzio apostolico in Siria Zenari, rischia di durare ancora a lungo, aumentando la strage degli innocenti. La Siria rischia di perdere intere generazioni e la perdita dei giovani è una bomba per la società, aggiunge l'inviato del Papa. Queste donne e questi bambini non sono né contro né a favore dei belligeranti, ma appartengono all'intera umanità, che non può lavarsene le mani. Momenti improvvisati, condivisi tra persone nello stesso momento, per farsi coraggio tutti insieme. Sono i flash mob che in questi giorni stiamo vivendo in Italia, ciascuno dalla finestra o dal balcone di casa propria. Sentiamo Fabio Bolsetta. L'appuntamento è sui balconi. L'idea lanciata sui social network e rimbalzata sui telefonini, condividendo catene di messaggi WhatsApp, ormai è un appuntamento quotidiano e importante per non sentirsi soli. L'Italia si ritrova sui social e si affaccia dai balconi per riscoprirsi ancora una volta, giorno dopo giorno, grati e uniti. Così si moltiplicano i gruppi su Facebook, come Flash Mob Italy, Applaudiamo l'Italia, che ha già superato le 550 mila adesioni. L'appuntamento delle 12, 18 e 21 scandisce le giornate in isolamento. Un cielo ieri tagliato dalle frecce tricolori per sorvolare l'Italia intera. Sotto invece, dopo i primi affacci con canti, ecco ora invece le luci, con torce, telefonini e candele, tutti insieme per illuminare di speranza il domani. A nord a sud, l'appuntamento è anche condominiale e l'inno e le bandiere d'Italia a sugellare l'orgoglio italico di superare anche questa prova. E intanto qualcuno su Twitter si chiede e domani che cosa cantiamo? Si chiude qui questa edizione del TG2000. Prossimo appuntamento con il TG domani alle 12. Ora vi lascio agli approfondimenti di TGTG con Caterina Dall'Oglio. Buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.